Due anni di covid rischiavano di dare un severo colpo di spugna ad una tradizione popolare radicatasi nella pesaresità e invece dopo due stati di stop il paglio dei braceri non solo torna ma si fonda pure con un altro must recente della cultura pop locale, quello del Festival della Pizza Rossini. Un format giunto alla terza edizione ma già perfettamente compatibile ad un doppio evento che caratterizzerà il weekend di fine luglio di Rocca Costanza e Piazzale Matteotti. Il paglio quest'anno vuole essere una manifestazione comunque sia che oltre a coinvolgere un'intera città vuole comunque sia anche portare a Rocca Costanza tanti turisti e tante persone che frequentano la nostra città. Siamo ripartiti dal numero 12 di Contrade e dal numero 10 il compleanno del paglio perché noi facciamo 10 anni e quindi non c'è più un bel modo di ripartire da un decimo compleanno dove il paglio in qualche modo vuole far conoscere ancora di più quello che è l'entusiasmo, il colore che in questi anni è stato portato all'interno della città di Pesaro. Dal 28 al 31 luglio abbiamo un ricco programma e tutta l'area sarà suddivisa comunque sia per isole tematiche e abbiamo un'area dedicata alla musica e i ragazzi dello staff Cherie porteranno comunque sia band e dj del nostro territorio, abbiamo un'area votata a una zona ludica dove ci saranno dei tornei di biliardino, tiro la fune, un gioco nuovo per i bambini che si chiama Accendi il bracere. E poi abbiamo l'area gastronomica che è tipica del paglio, quest'anno non saranno più tante Contrade divise in stand ma ci sarà uno stand unico gestito proprio dalle Contrade dove porteremo tanti prodotti del territorio e tante ricette buonissime che tutti potranno mangiare mentre bevono una buona birra e ascoltano della musica. Il 31 di luglio invece è la giornata del paglio, Rocca Costanza le tifoserie scenderanno nel solito fossato per dare spettacolo e vediamo dopo Santa Maria dell'Arzilla che è l'ultima detentrice del paglio chi vincerà quest'anno il paglio. Le Contrade da partecipare sono 12 invece di 16 e si fa un grande in bocca al lupo a tutte. Non solo paglio dunque ma anche il festival della pizza Rossini che Massimiliano Santini ha tentato di esportare in versione ambasciatore del gusto anche nella vicina Bologna per attirare l'attenzione sul festival di un piatto caratteristico della tavola pesarese da colazione a cena. Abbiamo creato questa joint venture nel senso che ci saranno due aree, la prima dedicata come sempre al paglio dei bracieri e la seconda dedicata al festival della pizza Rossini, il festival che in questi anni ha portato la nostra pizza sulla bocca di tutti. Il festival della pizza Rossini avrà anche qui una suddivisione perché all'interno di quest'area avremo un'area ristorante gestita dal Ceronavolta, la pizzeria una delle più famose di Pesaro che cucina la sua buonissima pizza Rossini, poi un'area ludica dove porteremo all'interno dei contest ovvero il divoratore di Rossini, anche questo un bellissimo contest che ha spopolato quindi a chi mangia più pizza Rossini e la miglior pizza homemade quindi i cittadini potranno venire lì con i propri ingredienti e preparare la propria pizza e ci sarà una giuria che giudicherà la miglior pizza homemade del 2022. E poi il concorso, il concorso che è un concorso online che decreterà la miglior pizza al taglio o a colazione quindi la pizzetta o al piatto e questo è un concorso che facciamo da diversi anni, importante e invito tutte le attività pesaresi a iscriversi mandandoci una mail a info-larsini.it con i vostri dati e riferimenti.